Con Leonardo Genovese commentiamo questa gara, due set un po' così apatici, poi invece cos'è successo? Ma diciamo siamo partiti abbastanza, eravamo molto timidi, poi dopo siamo andati sotto sul 2-0 e ci siamo subito ripresi mettendo pressione sulla zona abbattuta. Infatti da lì in poi abbiamo macinato punti fino a portare questo risultato a casa. Sono due punti molto pesanti ai fini della salvezza? Sì, due punti che ci servivano, speriamo di ottenerli così possiamo avvicinare questa zona salvezza.